Giosafat ha detto Dio libera la valle che domani facciamo il giudizio universale anticipato, 21 aprile, 21 aprile giudizio universale anticipato, ora io ragazzi mi sono sempre chiesto, quando tutti noi, tutti insieme di tutte le età, le razze, le religioni ci troveremo davanti a Dio nella valle di Giosafat, che spettacolo delle meraviglie della natura, in bianchini, preti, musicisti, faraoni, imperatori, re, ciclisti, tutti in mondo, tutti insieme davanti a Dio, pensate che, e Dio quanto c'avrà da fare per organizzare tutto, boni, fermi, gli americani a destra, gli inglesi a sinistra, gli spagnoli di là, dietro non si può stare, dividetevi o di qua o di là, non state nel mezzo, di là gli inglesi, ho detto, i cinesi di là, madonna quante sono cinesi, e quanto c'è, non pensavo foste così tanti, mettetevi su quella collina, vi sistemo meglio dopo, e lo so che si sta scomodi, boni, fermi, quelli avanti Cristo dopo, quelli dopo Cristo avanti, fermi, o di qua o di là, dividetevi, non si può stare nel mezzo, ho detto, chi è quello lì in mezzo, bottiglione, è ancora lista, e si decidono, ma che, pannella, bono, non si può raccogliere firme, che vuoi fare, questo, vuole abrogare il purgatorio, pannella, non si può raccogliere firme, i cinesi di sistema dopo, boni, puttana eva, stai ferma, damma, non rompe le scatole, tutti a piedi, pronti, scende di bicicletta, e dopo la donna, boni, ho detto, fermi, chi è quello lì con tutti quei bagagli? chi? D'Alema, ancora non ha trovato casa, è arrivato di qua con i bagagli, povero Massimino, te la trovo io, fermi, gli italiani a sinistra, gli africani a destra, craxi, dove va? ancora con gli africani, ma lei è italiana, ma vada con gli italiani, basta con questa mametta, su, vada dalla parte sua, craxi, boni, chi è quel gruppo là che non vuole entrare? chi è? gli genovesi? è gratis l'entrata, è gratis, avanti, fermi, i cinesi, vi sistemo dopo, lo so che si sta scomodi, vi trovo un posto dopo, boni, che si fa tardi, che ore sono? Svizzeri, dove sono gli svizzeri? che ore sono? precise, grazie, fermi, mi ha detto, boni più dietro, i gran boni, gli imbecilli a sinistra, i grandi statisti a destra, craxi, dove cazzo va? ma vada dalla parte sua, vada dalla sua parte, e non sbagli più, boni, i cinesi di sistemo dopo, vi ho detto, fermi più al fondo, mi chiamo Dio, non Silvio, boni, ho detto di stare più, mi chiamo Dio, non Silvio, ma chi è queste tre ore che mi chiamo Silvio? e mi rivede, signor Fede, io, signor Fede, io, non c'è niente di male, no, dico, guardi, io, no, no, si può sbagliare, no, niente, signor Fede, io, la ringrazio, ma io mi chiamo Dio, non Silvio, come dice appunto, scusa Pietro, ma che fa di mestiere, direttore di un telecone, non ci credo, signor Fede, dai, se ne vada, che dobbiamo lavorare, come vuoi tu Silvio, ancora, questo mi prende in giro, io questa bronzatura, gliela faccio restare in eterno, e do una fulminata fra il capello, se ne vada, signor Fede, che dobbiamo lavorare, boni là in fondo, fermi, i ladri a sinistra, le persone oneste a destra, craxi, dove cazzo? Lei fa una brutta fine, craxi, eh, lo so bene da che parte andare, e vado dalla sua parte, fermi, ma cazzo vuoi vattene a affanculo, cazzo me ne frega, ma sti cazzi a culo di strafarsi, ma andate a venne a affanculo tutti, oh Dio, stai cazzo me ne frega, chi è questo che dice parolasce, Vittorio Sgarbi? Signor Sgarbi, non si può dire parolasce di qua, ma io dico che cazzo mi pare, ma andate bene a affanculo tutti, riportarci i posti, io sono il presidente della commissione cultura di sto cazzo, voi che cazzo siete, ma andate bene a affanculo tutti, ma che me frega dei miei coglioni, la fregna di tua sorella, ma andate bene a affanculo, ma io sono il presidente, ma andate bene tutte a affanculo, ma che me frega, andate via, puttana Eva, Adamo, l'ha detto lui, puttana Eva, vai l'ha detto lui, vai Adamo, il presidente della commissione, che soddisfazione, chi è quel gruppo di cannibali, è tre ore che gira intorno a quella persona con la colina in bocca, cannibali fate vedere chi c'è lì in mezzo, è Giuliano Ferrara, cannibali, prima di tutto, non si fa battuta sulle persone grasse, mi meraviglio di voi, che siete personcine delicate, e poi non si può mangiare, no, non si può, no, lo so che è un bel bocconcino, ma non si può mangiare, cannibali obbedite, tornate con gli africani, su, voli, e lei Ferrara se le va a cercare le battute, si mette proprio lì accanto ai cannibali, scusi, ho detto si mette proprio lì, cambi posto, no, vada via, se ne vada, ho detto vada via, oh, se ne è andato, ho trovato il posto per i cinesi, tutti li andavano, e c'entrano tutti, e c'entra anche qualche giapponese, pure quelli del tuffello, tutti, buoni, non fate carino, buoni, comincia il giudizio universale, sarete sottoposti al giudizio mio, è Di Pietro, a queste parole Silvio Berlusconi, cazzo c'è Di Pietro anche di qua, e che cazzo, non me ne libero più un incubo, sempre sto Di Pietro, ammazzo, e che facciamo, chiamerà tutti i sumministri della difesa, biondi, mancuso, e facciamo, mancuso, mandiamo un'ispezione, che mi consigli, mancuso, ma io direi, un pacchetto da bambetta, un po' pazzo da genere, un po' pazzo da Marantla, si capisce un cazzo, biondi, biondi è sempre priaco, se ti dà uno schiaffo, biondi è il famoso colpo di spugna, vero? Biondi, non si può confabulare, però, chi è là? Sono Silvio Berlusconi, però se va Silvio Berlusconi, dicevo davanti a Dio, secondo me non è che ci va così in mollaccione, perché devo dire, visto come risponde, ci dici, insomma, è uno con una certa personalità, di un certo carattere, devo dire, secondo me si presenta proprio strafondente anche davanti a Dio, ma proprio là, buongiorno collega, come collega? Chi è? Buddha? No, Allah, Manitou, Tex Villa, collega, sono, io sono, sono Silvio Berlusconi, e beh, che vuole? No, io prima che lei, però, mi giudichi, lei volevo dire, volevo fare un discorso a mia discorpa, che io se lei mi consenta, mi giuro sui miei figli, mi sono fatto da solo, scendo in campo, sono avuto dal signore, rio po', biancaneve, e mi consenta, non hanno uno straccio di prova, è un complotto. Ma chi è lei? Io sono Silvio Berlusconi, e lei chi è? Come chi sono io? Io sono Dio, io sono colui che è, e lei? E io sono colui che ha? Com'è colui che ha? E che ha? No, io ho tutto, a me piace comprare, è vero? Mi piace comprare, mi piace spendere, ho i soldi. Prima che lei mi giudichi, anche le vorrei fare un elenco di tutte le mie proprietà, guardi, gliela canto, io gliela canto, poi lei mi giudicherà, però stia a sentire chi è Silvio Berlusconi, poi lei mi giudica, ma deve sapere con chi ha che fare. Io sono il boss della coalizione, casini, fini e ultimamente bottiglioni, io sono il leader. Gio Petti, Gio Tattarella e Fisichella, Marco Pannella e Franco Zeffirella, Clemente Mastella, la sua sorella, Gianfranco Funariglio e la sua mortadella. Carlo Rossella, del DG1, è mio, è mio, il DG2 e Tim Bimun, Gianfranco Funi, Gios Paolo Maldini, Letta Lentini, Alessandra Mussolini, e Ferdinando Cassini, Fiorello e Fiorelli, Ferdinando Cassini, la Montaini e Roberto Formichini. C'ho via dell'umiltà, c'ho la segreteria, a via dell'anima, dell'immortacci mia. Mi manca la Fiat, ma me la piglio, come ho già preso, ma miglio, scogno, miglio. Sarà ancora mia, la presidenza del Consiglio. Grazie. Grazie. Sentendo Dio le frughe, pur cavolo, non ce la faccio più, non ce la faccio più il fisico, non ce la faccio più il fisico, come disse la mamma di Galileo Galilei, come te lo si andò di casa. A quel punto, sentendo Dio l'elenco delle proprietà di Berlusconi, disse, lei ci ha elencato le sue proprietà, io non le elenco le mie per ragioni di tempo. Adesso mi metto in camera di consiglio con Pietro e decideremo dove mandarla. l'attendasi, Berlusconi. Abbiamo fatto, sì, sì, il rito ho abbreviato. Io lo dico io, vabbè. Lei se ne deve andare, anzi, per la par conticio, visto che lei ce l'ha cantata, se permette gliela canto pure io. Se Pietro mi porta la chitarra, ecco, un secondo. Faccio più vecchio, Pietro. Ecco, signor Berlusconi, il nostro consiglio, ciò che lei deve fare secondo noi. Fior di limoni, io e Pietro si è giunti alle seguenti, ho conclusioni, è l'ora che te levi, che lei deve fare, se casare bene. Fior di limoni, il nostro consiglio e levi, 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 per favore Grazie.